Ciao, ciao tesoro mio, come stai? Spero molto, molto meglio. Oggi ti invito a rilassarti otto volte più velocemente con questo ASMR in 8D, scusa, 8D, già lo sai che ogni tanto qualche parolino in spagnolo esce? Bene, allora questo è un ASMR in 8D, quindi sentirai l'audio provenire da 8D per sé direzioni, girerà un po' nella tua testa. Per sentire l'effetto 8D come si deve, devi metterti per forza le cuffie, perché altrimenti non sentirai l'effetto 8D. E ti sembrerà di sentire un ASMR qualunque. Quindi mi raccomando le cuffie. Allora, questo è un format a cui io ci tengo particolarmente tanto, perché questi tipi di video sono diventati molto popolari qualche anno fa su YouTube. E il mio canale in spagnolo è stato il primo canale in assoluto a fare il ASMR in 8D. Dopodiché ricordo che tanti canali hanno cambiato titoli pure ai video che avevano aggiungendo il tag 8D, perché era diventato molto di moda in quel periodo. Quando ho cominciato a farlo, è stato un po' come il boom generale dell'ASMR, che dopo che è diventato virale o popolare, molti video che non sono ASMR. E contengono il tag, sia nella descrizione del titolo, che la gente aggiungeva soltanto per provare a avere più views. Ma comunque questo è stato il primo canale a fare ASMR in 8D e a fare ASMR 9D, perché c'è anche l'ASMR 9D. Penso di avere qualche video in italiano, anche 9D, se vuoi vedere qual è la differenza, e magari così mi dice quale ti piace di più, che effetto ti piace di più, perché sono, a mio parere, molto diversi. Anche la devi usare le cuffie, anche la devi usare le cuffie, e infatti anche ho fatto dei video in 10D, cioè 10 dimensioni di audio, che anche quello ha un effetto molto, molto carino. La verità non so se c'è qualche video in 10D in italiano, credo di no, credo ci sia solo nel mio canale spagnolo. Ma comunque, se ti piacerebbe avere un video in italiano dedicato a 10D, mi puoi fare sapere nei commenti, e magari provvediamo a fare un video così. Detto ciò, spero ti stia rilassato con i miei susurri, e che sia del tuo gradimento, anche il fondo audio, in questo caso di acqua, che ho usato. Generalmente in questi video uso la musica di fondo, ma questa volta ho deciso di usare come fondo i suoni di acqua, pioggia, riuscelli, cose del genere, per provarlo a fare un po' più naturale, se si può. Quindi fammi sapere se preferisci il fondo musicale, o se questo tipo di fondo audio per te può essere più interessante e rilassante. E ho portato dei trigger molto piacevoli, almeno per me. E voglio iniziare con queste pagine di paline di cielo orgullo, che io, particolarmente, adoro molto. Grazie a tutti. 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 a tutti.